Ciao, oggi vediamo Spinner Lo vedo tanto in giro, lo vedo nei negozi, lo vedo su internet E hanno fatto l'app scaricata da poco Ho detto provo a scaricarla Ragazzi non ha niente di che questo gioco, è un passatempo si può dire, dai La grafica è bella comunque Sopra dalla velocità, le monete e il punteggio Io più di venti non riesco a fare Spinner Nuova app 2017 Scaricatevela Iscrivetevi al canale e mettete un bel mi piace Alla prossima ragazzi